Buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV con il primo appuntamento con l'informazione sulla nostra emittente. Allora, come sempre, 7.30, occhio ai giornali, già tutto pronto, però prima naturalmente procediamo con l'almanacco del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi è martedì 15 marzo, Santa Lucia di Mariac, religiosa, il sole è sorto alle 6.19 e tramonterà alle 18.15. Allora, guardiamo le giornate di oggi, domani e dopodomani con il tempo e le previsioni della protezione civile Marche. Il cielo per oggi è poco nuvoloso in mattinata per presenza di lievi velature e però ci sarà un aumento di questa copertura da Nord nel corso del pomeriggio. Però non ci sono precipitazioni. Vediamo domani che per l'arrivo appunto di queste nubi da Nord peggiora. Infatti il cielo sarà nuvoloso, molto nuvoloso, addirittura coperto e anche le precipitazioni fanno la loro comparsa. Deboli fenomeni sparsi, però dalla serata in poi le precipitazioni saranno ancora lungo la costa e in maniera anche sostenuta, anche a carattere di rovescio. Il limite delle nevicate attorno ai 700 metri attualmente è in risalita fino ai 1000 metri, però riguarda, vedete soltanto i rilievi. Le temperature risalgono per la giornata di domani. Vediamo giovedì, migliora un pochino, c'è anche la comparsa della simbologia del sole, quindi cielo parzialmente nuvoloso, maggiori addensamenti nella prima parte della giornata, quindi nella mattinata più nuove, le precipitazioni possibili, ma solo, vedete, nei rilievi e nella zona meridionale della regione. Le temperature continuano a risalire. E allora queste sono le previsioni per i prossimi tre giorni, regolatevi di conseguenza e andiamo subito nelle pagine dei giornali. Vi porto in quella del resto del Carlino di Fano, dove c'è cronaca e si parla appunto del ritrovamento del corpo del portalettere in bagno. Ora si indaga per scoprire le cause di questo decesso e oggi ci sarà l'autopsia. L'allarme è stato dato da un amico, il 41enne non era noto essere assuntore di sostanze stupefacenti, però l'autopsia chiarirà le cause della sua morte. Poi l'assalto praticamente al ristorante, alla pizzeria, rompono nel ristorante, aggrediscono i titolari, intervengono i clienti che erano presenti in quel momento, addirittura feriti anche i carabinieri che erano arrivati per sedare la rissa. L'assalto è finita in coppie, è finita in manette, scusate, una coppia. Ancora nelle pagine del resto del Carlino si parla di un istituto, l'Olivetti, l'istituto di Fano, che dà vita a una rappresentazione. È una serata con i nobili Petrucci, che erano i nobili che ospitavano il palazzo dove ha sede l'istituto Olivetti. Si svolgerà questa serata particolare del 19 marzo, a partire dalle 15 e 30 con ragazzi in costume. I ragazzi hanno invitato, hanno mandato una missiva anche al Papa a questo show, a questo momento, e il Papa ha risposto, arriva dalla segreteria di Stato, una lettera dove dice vi benedico. È un'emozione veramente forte e la preside Anna Gennari esprime grande gioia per questa inaspettata risposta da parte del Papa. Vedete qui nella foto del resto del Carlino la lettera proprio a firma di Papa Bergoglio. Allora, ancora rimaniamo nelle pagine del resto del Carlino. Si parla di sanità e vengono pubblicati nelle pagine del resto del Carlino che riguarda Pesaro quanto ci costa la sanità. Ecco gli stipendi di Marche Nord, primari al top, ma l'età d'oro è finita. I primi tre posti Beatrici, Zingaretti e Marabini, quarto Frausini. Quindi ecco qui, se volete divertirvi a spulciare i loro introiti, sono riportati nelle pagine dell'articolo, insomma nelle righe dell'articolo. Poi un primario lascia, Ugolini, dopo 41 anni nel servizio di pneumologia, Marcello Ugolini e Martinelli, un altro primario, lo segue a ruota e quindi vedremo le sostituzioni. Ma si continua a parlare di scuola anche nelle pagine del resto del Carlino che riguardano Pesaro, non per una lettera particolare, ma perché sono in forte aumento le iscrizioni nei licei e si va appunto al Marconi che continua a crescere e addirittura il campus è vicino all'esplosione perché mancano proprio le aule per accogliere tutti i ragazzi che vogliono iscriversi ai licei e l'alberghiero regge nonostante i suoi guai. Tutti gli istituti alberghieri stanno vivendo momenti floridi per le iscrizioni, forse probabilmente anche in virtù degli show che riguardano anche in televisione i cooking show oppure i talent show inerenti alla cucina che attirano molti giovani per diventare chef cuochi. Questa sicuramente è la strada giusta. E allora intervengono su questi argomenti i dirigenti, Marcella Tinazzi, al personale del Branca e al Santa Marta va tutta la stima, hanno affrontato l'emergenza della sede con tenacia e poi Riccardo Rossini, il liceo scientifico ha raggiunto i 1700 studenti, aumentiamo una classe all'anno, però come vi dicevo prima mancano all'appello 5 aule e dicono che appunto le troveranno. Cronaca nelle pagine del resto del Carlino, però ci spostiamo a Gradara dove c'è stato un assalto a una banca, la banca di credito cooperativo di Gradara, rapina, con questo stratagemma il bandito ha arraffato 7 mila euro e insomma lo stratagemma è questo, grida subito i soldi o vi getto l'acido in faccia. Si è presentato come cliente nei giorni precedenti, ha fatto la fila, probabilmente ha studiato un po' l'ambiente, ha visto come si poteva muovere e poi è scattato alla rapina. Ha atteso appunto il suo turno, voleva aprire un conto, sui 35 anni il direttore dice ha agito con grande furbizia. Cambiamo il giornale, andiamo nel Corriere Adriatico e si parla di sanità, anche qui per un altro aspetto, non si parla di stipendi, dopo insomma il blitz all'ospedale del sindaco Baldelli al punto di primo soccorso con il ricorso all'arma dei carabinieri, un blitz scattato a mezzanotte con tanto di telecamera che ha fatto sì che venisse scoperto il fatto che non c'era un medico nell'ambulanza che doveva servire il territorio. Ora ieri c'è stata una conferenza stampa all'Asore e all'ospedale di Pergola, nessuna anomalia, lo dice il direttore generale Marini con lo staff che tranquillizza i cittadini ma ammette che il sistema emergenza-urgenza è perfettibile. Vediamo qui nella didascalia niente interruzione di servizio, dice il Santi Carlo e Donnino non ha pronto soccorso né medici dedicati. Questo è ancora in basso sempre di sanità, ma insomma si parla di location del nuovo ospedale, 16 sindaci votano contro il sito di Fosso Segliore. Ieri c'è stata la conferenza dell'area vasta 1 nell'Alta Marecchia con 45 primi cittadini, ma al momento di alzare la mano e votare ce n'erano soltanto 22. Ancora la cronaca che campeggia nelle pagine del Corriere Adriatico, siamo a Urbino per una scomparsa, è un ritrovamento scomparso e ritrovato morto nel fiume, potrebbe essersi esporto troppo dal fianco del ponte sull'Apsa, il cadavere è stato rinvenuto dal figlio. E poi a Fossombrone, sputi, atti osceni e botte al mercato, un ubriaco viene denunciato dai carabinieri, risale in aorto e la municipale gli sequestra la patente. Andiamo nelle pagine del Corriere Adriatico che riguardano Fano, si parla di ambito sociale, sono state presentate in consiglio comunale quattro delibere per chiudere la partita in sospeso, l'ambito sociale non c'era un sistema, il sindaco durante la conferenza stampa interviene per chiarire quali sono state le anomalie che hanno portato a questa situazione, ma dice appunto, sotto le domande di Lorenzo Furlani, che non c'era alcun sistema per quanto riguardasse gli incarichi e quindi questo è concluso l'incarico anche ad interim del coordinatore protempore. Il Consiglio ha saldato le fatture per 498 mila euro come debiti fuori bilancio e adesso si attende appunto la nomina del coordinatore effettivo. Però l'assessore Bagnesi dice ora abbiamo regolarizzato la gestione. Niente direttore generale, siamo alle spese del comune, quindi spending review, il comune risparmia 90 mila euro superata la fase problematica relativa alla verifica degli ispettori della ragioneria di Stato. Ancora nelle pagine del Corriere Adriatico, l'aggressione in pizzeria, copia in manette, però una questione legata alla salute, alla sanità, la camera iperbarica di Fano non è mutuabile, quindi un fanese va a Bologna e fa il pendolare per farsi la terapia. Nella struttura cittadina avrebbe speso 1000 euro per la terapia prescritta. Un pendolarismo per la cura, per curarsi. Nelle pagine di Senigallia invece del Corriere Adriatico si parla di mobilità e di un'opera che sta per arrivare in dirittura d'arrivo. Siamo appunto durante un sopraluogo del sindaco Mangialardi, la conplanare è in dirittura d'arrivo. Ieri appunto il sopraluogo della commissione urbanistica, 8 chilometri che risolveranno molti problemi di viabilità nella città di Senigallia. Andiamo con il messaggero. Il messaggero appunto in testa di pagina porta in evidenza la sanità, nuovo blitz dei sindaci appunto sulla votazione contro la decisione della regione. Al momento del voto però erano presenti solo in pochi. Michele Chiarabilli dice è la dittatura della minoranza. Foto notizia per il papà di Valentino Rossi, Graziano Rossi che dà vita al rally, passione sia di padre e di figlio e quindi questa manifestazione che ha avuto tanto successo a Talacchio nella giornata di domenica, il rally drift show farà un tour nella provincia. Il drift è insomma le sbandate controllate, una specialità rallistica. Bandito solitario assalta la banca, i soldi otti sfregio, anche qui riportate nella pagina di apertura del messaggero l'episodio di cronaca. Il tempo, come sarà il tempo? Il messaggero ci dice appunto come abbiamo visto ancora giorni di instabilità. E poi in fondo pagina una notizia che riguarda Fano per l'anniversario del gemellaggio tra la provincia e il distretto di Volksburg a Fano saranno presenti le dirigazioni per i giochi del gemellaggio. Atleti da 11 città tedesche insieme a quelli dei centri con cui sono legati e quindi insomma vedremo tipo giochi senza frontiere, insomma qualcuno della mia età se lo ricorda questo questo programma molto bello che teneva insomma tutti sui teleschermi. Allora saranno su quello stampo. Si parla nelle pagine del messaggero di turismo sempre legato allo sport perché Pesaro è sempre stata orientata verso questa tipologia di turismo, tutto esaurito ma molti hotel ahimè sono chiusi. Le manifestazioni sportive riempiono le strutture pesaresi tranne 15 senza riscaldamento e gli ospiti sono migrati a Gabice e Cattolica. Insomma il turismo sportivo muove soprattutto quello anche amatoriale che riguarda tante persone è sicuramente una fonte di introito per gli operatori del settore, insomma un bel movimento. Si parla anche di sport oltre che di auto e di motori nelle pagine del messaggero di sport cestistico, di basket. Bianchini dice c'era una volta la VL da Scudetto ma adesso a Pesaro si torna a vedere il sole. Bianchini è stato insomma un allenatore storico per la VL di Pesaro, allenatore ospite per i settant'anni appunto del club. Ora dovete applaudire Paolini per la gara di domenica scorsa, quindi un'incitazione ai tifosi. L'ultima pagina che vi faccio vedere è quella di Fano del messaggero, anche qui ambito sociale un giro di oltre 2 milioni, quelli movimentati per coprire i servizi nel sociale. Mandolini dice abbiamo messo a punto strumenti normativi perché l'ente potesse agire in pienezza e legittimità di poteri. Poi lui e lei furie scatenate, terrore al ristorante e chiudiamo con questa notizia sempre insomma Viale Ruggeri, marturiato Viale Ruggeri che viene ricoperto dalla ghiaia della Sassonia per le burrasche di queste ore. La ghiaia è tornata a coprire l'asfalto già per la terza volta in due settimane. Bene, questa era l'ultima notizia che vi facevo vedere, grazie per essere stati in nostra compagnia, un saluto anche a coloro che ci seguono in replica nel corso della mattinata. Occhio ai giornali torna domani naturalmente alle 7.30 puntuali, questa sera non mancate l'appuntamento con Occhio alla Notizia alle 8.30 e poi durante la vostra giornata Facebook e il nostro sito web. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi.